altro appuntamento ieri sera 5 agosto a san michele di bari con il san michele music festival 2022 sul palco noemi che con la sua band ha ripercorso alcuni momenti importanti della sua carriera artistica diverse le partecipazioni ai festival di sanremo tanti i riconoscimenti che noemi ha ottenuto il suo legame con la puglia ecco la risposta che ha ci ha dato prima di salire sul palco noemi viva la puglia viva la puglia questo tuo tour in puglia il tuo legame con la puglia è bellissimo a parte che è stato meraviglioso girare la tuta combattiti live sono molto contenta di essere qua stasera grazie ciao benissimo auguri